e ed eccoci signori eccoci qua numerosissimi internauti sono felicissima in queste brevissime battute di presentarvi Gorli Stig qui alla mia sinistra un artista fresca fresca di selezione allora vi do un indizio lei vuole essere chiamata giustamente con il suo nome d'arte Gorli Stig però l'anagrafe Sara ci fermiamo qua allora Sara le tappe principali del tuo percorso artistico laureata in architettura amante mi sembra della pittura del disegno del disegno del fumetto di quanto è grafica e ovviamente poi delle arti pittoriche senti allora abbiamo selezionato per voi da casa per voi che ci seguite numerosissimi tre opere in particolar modo tre opere di matrice espressionista possiamo dire come si arriva a questo tipo comunque di arte a questa ricerca artistica con l'allenamento l'esercizio esercizio esercizio e tu mi dicevi fuori dalle telecamere una lunghissima quasi produzione abbiamo detto abbiamo riso industriale perché sei una di quelle che si mette lì e dipinge crea 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 quasi tra virgolette all'infinito allora entriamo nel cuore dell'arte di Gorli Stig opera numero uno signori siamo arte accessibile siamo affordable art point quindi richieste di mercato abbondantemente sotto le mille euro opere introspettive quelle di Gorli Stig opera numero uno aria signori una boccata di ossigeno un riemergere un andare verso la vita un'opera del 2014 90 centimetri per 60 una tecnica messa su tela un olio un acrilico 900 euro la richiesta di mercato durante un'intervista che ho avuto il piacere di farti lo sfondo avevo detto erroneamente sullo sfondo Sara si vede una città tu mi hai detto no Ale non è una città è il movimento giusto sì verso ecco come nasce quest'opera quest'opera nasce con radici in un sogno che facevo spesso e ricorrentemente dal mondo onirico sì sì viene da un viene dal mondo dei sogni quindi è proprio un pezzo di psiche o un pezzo di ciò che sia in profondità quindi quindi le ansie le angosce probabilmente non elaborate della vita di tutti i giorni perché parliamoci chiaro e tondo facciamo delle vite veramente eh stressanti quindi signori aria nasce da un mondo onirico e chi di voi di noi non ha mai sognato queste ansie di non riuscire a respirare esatto le fughe di ogni tipo lo scappare il sentirsi senza aria questa invece è un'opera che sicuramente ci dice di riemergere di iniziare a vivere come realmente vogliamo un'opera 90 per 60 tecnica mista su tela 900 euro la richiesta che potete tranquillamente questa quotazione di mercato frammentare in comodissime rate passiamo all'opera numero 2 la selezione quest'oggi per voi di Gorlig Stig opera numero 2 vi anticipo il titolo sul fondo un'opera del 2014 un 80 per 80 guardate che bella che segno deciso abbiamo detto matrice espressionista una tecnica mista su tela 960 euro la richiesta di mercato anche questa un'opera introspettiva vero Gorlig Stig qui con noi assolutamente introspettiva e si va a cercare sul fondo di se stessi in questo caso eh il braccio discende oltre la tela in un liquido che può essere qualunque cosa appunto la nostra interiorità come i nostri le nostre ansie o il nostro essere questi soggetti sei molto attaccata legata ovviamente alla figura umana soggetti senza volto nella maggior parte dei casi per dare a ciascuno la possibilità di porre il suo ok perfetto allora proprio andiamo a vedere proprio come da richiesta l'opera numero 3 e concludiamo eh con quest'ultima opera doppio quindi le varie personalità no abbiamo detto doppio ma potrebbero essere triple certo via di seguito allora un'opera del 2014 tecnica mista su tela 960 euro la richiesta qui si vede proprio la tua caratteristica il segno deciso sì segno deciso e eh tento di descrivere un appunto un'ambivalenza due facce di una stessa medaglia una medaglia che pone le spalle ma forse difende una parte più delicata e chissà certo quindi sentite opere ovviamente aperte al proprio interlocutore a chi le guarda questa è la caratteristica principale di Gorli Stig signori grazie di essere stati con noi continuate a seguirci e soprattutto a seguire il percorso di questa giovane artista anche all'interno del nostro sito lo ricordiamo www.affordballartpoint.com da Alessandra è tutto e anche da Gorli Stig che la rivedremo